Il Parco Nazionale del Matese compie un altro piccolo passo verso la sua istituzione ufficiale. A darne notizia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani, riferendosi al recente incontro che si è svolto a San Potito-Sannitico, un comune del versante campano del Parco. Le notizie che giungono sono incoraggianti per quanto riguarda il futuro del Parco Nazionale, che è legge dal 2017 ma che di fatto non vede ancora la luce, ha commentato Primiani. Dalla Campania stanno finalmente provvedendo ad inviare alla Regione Molise tutta la documentazione che riguarda la zonizzazione, la perimetrazione e la bozza di disciplinare e di regolamentazione. Una pratica che il Molise ha già chiuso, ha sottolineato ancora l'esponente 5 Stelle. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata all'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, dunque al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ci vorrà ancora del tempo prima che arrivi il parere definitivo. Aggiunto, la nostra Regione potrebbe approfittare per fare rete con i sindaci e tutti i portatori di interesse del territorio per avanzare una proposta concreta e fare in modo che la sede dell'ente venga istituita a Boiano. Non bisogna perdere l'occasione in questa fase di attesa e lavorare affinché ciò si realizzi, ha concluso Primiani.